Grazie a questo gol di De Giorgi il Nardò torna ad assaporare il sapore del successo dopo 5 gare e un periodo di grande difficoltà. Battuto nel proprio domicilio il Bitonto che invece resta ancorato nelle zone bassissime della classifica e non riesce a capitalizzare al meglio i tre pareggi consecutivi conquistati nelle scorse gare. Ma recrimina tanto per una gara in cui ci sono state anche due reti annullate e tante proteste. Ma andiamo con ordine in campo Stasi e Prinari al posto di Palazzo e Chacon per Santo Ruvo che sceglie come terminale offensivo più avanzato il giovanissimo De Michele già in gol domenica scorsa a Manfredonia. Dall'altro lato è come sempre difesa a 4 per Costantino che deve rinunciare però ad Ambros ma afferrere in avanti al suo supporto le giocate di Danna, Guadalupe e Ciraci. La gara non decolla, ci prova lo stesso Danna di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione palla sul fondo. Al diciassettesimo il Bitonto a trovare la via del gol grazie al colpo di testa dell'ex Prinari su cross preciso di Mollica da sinistra. Si alza però la bandierina dell'assistente arbitrale ed è offside, vibranti le proteste di casa per la posizione di Di Benedetto. Dall'altro lato però il Nardò passa al primo vero affondo al venticinquesimo, palla in uscita dalla difesa di casa ed è Giorgi da circa 30 metri, non ci pensa su due volte, batte Diamè con un perfetto tiro all'angolino. E lui a togliere le castagne dal fuoco per il Nardò capitalizzando al meglio ancora con un tiro da fuori aria di pregevole fattura. Ci mette un po' il Bitonto a metabolizzare la rete e nel primo tempo c'è da segnalare solo l'infortuna di Muscatiello nel finale al suo posto in campo. Un altro ex cioè Loris Palazzo per un Bitonto decisamente a trazione anteriore. Santo Ruvo sceglie anche Chacon subito in campo ma è Cira C a sfiorare il raddoppio con un'incursione a destra, il tocco sotto misura che Diamè devia in angolo. Il mio entrato Obodo ci prova per il Bitonto al quarto d'ora direttamente sul calcio di punizione, palla di poco sul fondo. Ancora proteste per i padroni di casa con l'incursione di Palazzo a destra e il suo cross intercettato in area di rigore da Lanzolla con un braccio forse troppo largo anche in questo caso. Vibranti le proteste di casa ma tutto regolare per il direttore di gara. Altre proteste del Bitonto a 20 minuti dalla fine del match quando Prinari inventa per Mollica partito probabilmente con un attimo di anticipo e il suo gol è annullato. Nuovamente per posizione di offside. Niente da fare per i padroni di casa e Nardò che va vicino al raddoppio, questa volta con il calcio di punizione di Guadalupe che beffa Diamè in arretramento ma non la traversa. E anche la parola fine sul match. Il Nardò affrancato dal successo torna tra le mura amiche del Giovanni Paolo II domenica prossima contro il pericolante Angri. Per il Bitonto invece scontro salvezza fondamentale in trasferta contro il Rotonda. Grazie. Grazie. Grazie.